Segnalo due cosette e sono due foto se per favore... Ah ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, sì sì sì. Quindi l'anticipazione del venerdì questa? Sono due quiz, sicuramente sarà interessante. Ecco, questa è via Delfico dove c'è un SUV parcheggiato per la serie tolleranza zero. Che ufficio c'è in via Delfico dove il provvedario di questa SUV la può tranquillamente lasciare in divieto di sosta? Che ufficio c'è? Che ufficio c'è? C'è la provincia. Non c'è la provincia, c'è l'un studio dell'assessore di Giovan Giacomo e quello è il SUV dell'assessore di Giovan Giacomo. Ma sopra l'assessore chi c'è? C'è il sindaco, eccola qua. La seconda macchina è un CX, mi dicono che fosse del sindaco. La prima è stata multata, una 112, la seconda no. Quindi anche qui tolleranza zero. Io mi aspetto di vedere quindi il 7, l'8, il 9 gennaio, quando si riaprirà il centro storico, che cosa accadrà per il traffico. E a proposito di traffico lancio questa simpatica provocazione. Il sindaco dice venite in bicicletta, ma chi abita all'ospedale come fa a fare la salita in bicicletta?